Buonasera, dalle telegiornali delle Marche continua a nevicare nella regione, tanto che la situazione a questo punto, come hanno raffigurato le immagini della nostra copertina, è grave, è critica in diverse zone. L'emergenza maggiore è quella a Urbino e nel Montefeltro il presidente della provincia pesarese Matteo Ricci ha chiesto lo stato di emergenze e di calamità e intanto nella città è arrivato nel pomeriggio. L'esercito, continuano a essere isolate, molte abitazioni e si concentrano soprattutto in questa zona le 1500 utenze che sono tuttora senza energia elettrica nelle Marche. La situazione insomma si fa ogni ora più grave, l'eservizio di Luca Moriconi. Sommersi, queste sono le immagini girate nel pomeriggio a Urbino dagli allievi della scuola di giornalismo, nella città ducale è emergenza totale. Sono intanto arrivati i primi uomini dell'esercito, a loro il compito di aiutare soprattutto le famiglie che da giorni sono intrappolate nelle abitazioni delle frazioni intorno alla città. In molte di queste manca la corrente elettrica, le situazioni più critiche sono a Pallino, Pantiere, San Marino di Urbino, Sante Ufemia e tante altre piccole zone agglomerati di case di campagna isolate dalla neve. Sul profilo Facebook del comune sul sito del Ducato è possibile seguire l'evolversi della situazione. La protezione civile sta intanto inviando un nuovo mezzo spazzaneve più grande di quelli già in uso. E sempre da Facebook ecco le foto di un utente, Cristiano Maria Bellei, che testimoniano la situazione. Ma il problema restano le condizioni meteo, più la neve viene tolta, più se ne riforma perché continuano le precipitazioni. Non solo, le carreggiate stradali si restringono a causa dei cumuli che si formano di volta in volta. Vicino a Urbino, Fermignano, dove il peso della neve ha fatto crollare i cavi elettrici dell'illuminazione nella piazza centrale, che da oggi è al buio. Intanto negli alimentari iniziano a scarseggiare frutta e verdura. E rimaniamo nelle pesarese dove è diversa la situazione sulla costa. Fano e Pesaro sono imbiancate ma non si lamentano.